Vai, vai il braccio, vai il braccio, vai il braccio! Nicola! Non è giusto! The winner is... Nicola Rovelli! Yeah! Ha barato! For a second time, Nicola Rovelli, the champion! The win! The champion! Allora, come è stata la gara? È stata emozionante, è difficile, sul terreno bagnato, non è stato semplice... L'aderenza quindi era scarsa? Eh sì, è sì! Come ci si sente di essere vincitori per la seconda volta? È un'emozione, è una conferma del lavoro fatto durante tutti i mesi invernali, del lavoro fatto nel mento... Che caro! Cosa vuol dire quelle checche dei tuoi amici? Che sono delle merda, si devono allenare, loro che fanno gli operai vanno sempre in giro, che io sono in scrivania, vedi? Mi vuol dire un cazzo! Grande, grande! Saluta a casa! Ciao ragazzi, ciao mamma, ciao!